Noi siamo in via Torino, che è il cuore della Movida, con un camper, intanto che poi si può spostare, andare all'Ausonia o là dove ci chiamano. Quella è la zona, insomma, fondamentalmente. E il banchetto, c'è il logo overnight, che poi si ripropone sulle magliette degli operatori che sono riconoscibili, sui gadget, insomma, un po' il marchio che fa sì che i ragazzi ci riconoscano. L'edizione di overnight, che partirà venerdì 30 giugno, dopodomani, è la numero 13. Il progetto, promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell'Aswitz, in collaborazione con la Regione, il Comune, le Cooperative La Quercia e 2001 Agenzia Sociale e l'Associazione Alt, è rivolto ai ragazzi fine 25 anni ed intende promuovere un divertimento più sicuro, soprattutto di notte, nonché prevenire i rischi legati al consumo di stupefacenti. Durante le serate, gli operatori, a volte essi stessi ragazzi, secondo il principio dell'education peer-to-peer, informano, ascoltano, mettono a disposizione materiale di consultazione e forniscono un aiuto qualificato nelle situazioni più critiche. In caso di necessità, gli infermieri che collaborano overnight assicurano, in stretto collegamento con l'112, un primo intervento. Da sempre overnight pone una particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti stradali, in accordo con il piano regionale della prevenzione. Anche quest'anno si lavora quindi sulla mobilità sicura, con consigli personalizzati e la distribuzione di buoni taxi da 5 euro ai ragazzi in età compresa tra i 16 e i 25 anni. I buoni, forniti dall'Alt, grazie ad uno specifico finanziamento regionale, si potranno ritirare per tutta la durata del progetto, presso il banchetto ed il camper di overnight e potranno essere utilizzati tutte le notti dalle 22 alle 6 di mattina. I tre buoni, da 5 euro ciascuno, messi a disposizione per persona, avranno validità fino al 31 marzo 2019. I minorenni potranno ritirarli solo se accompagnati dai genitori o esibendone una delega direttamente al banchetto. I rappresentanti delle cooperative Radiotaxi e Taxi alla Barda hanno partecipato alla fase preparatoria perché rivestono un ruolo importante nel servizio rivolto ai ragazzi. Per migliorare l'attività, i taxisti nelle serate e nelle ore in cui l'equip di overnight è operativa avranno a disposizione un numero di cellulare per contattare gli operatori in caso di bisogno. Abbiamo condiviso che è opportuno che non sia solo il weekend, ma che siano le notti di tutta la settimana ad autorizzare l'uso del taxi, quindi possono usarlo tutte le notti, dalle 10 di sera fino alle 6 di mattina fino alla fine di marzo.